e la sentite molto dura, come fosse marmo, quando la persona ha le anche parecchie giose. Perché? Proprio perché per il percorso di vescicola biliaria, che l'uomo corre lungo l'uomo. E quello che dobbiamo fare è quello di farlo diventare morbido, come le caramelle gommose. E quindi durante un trattamento sciazzo facciamo anche le caramelle gommose. Per esempio questo può anche essere molto doloroso e anche utile per le persone che durante la notte bruxano. No, 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 no. But by the way, electronic smog toxicity, grinding of the teeth, is one of the things that go on to what people like. No, 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 no. It's just the right hand. The left hand is with stomach. No, no, no. So let's see now what goes on. Solo la mano destra. It's so nice. It's so nice. Magic. It was really painful. She was just holding a leg like this was painful. It's so nice. It's so nice. It's so nice.